La merenda e lo sport in piazza San Giovanni, i giochi di strada in piazza Matteotti e sul Ponte Vecchio, i racconti in via Roma e poi ancora basket, mostre, giocoleria, fiabbe, la visita al museo della città di Palazzo Zacco, i laboratori su prenotazione, i cartoni e le bolle di sapone. Si svolgerà in centro dalle 16.30 alle 21 di martedì 11 giugno la prima edizione di Scuole in Festa, al centro i bimbi, la festa per studenti e genitori promossa dall'assessorata alla pubblica istruzione per celebrare insieme e divertendosi l'inizio delle vacanze estive, con la mappa e il programma nessun rischio di perdere anche un solo momento.